Sonora Scoppola d'inizio anno per l'Alfaterna che cede il passo ad una più cinica Juve Poggio Marino col punteggio di 2 a 5. Meglio organizzati i Vesuviani che pure non devono sforzarsi troppo per chiudere i conti del match ben prima dell'intervallo, piazzando il parziale 0-4 al 41esimo. Tuttavia, al netto delle indubbie qualità degli ospiti, va detto pure che è troppa la complicità dei calciatori di casa in tutte le marcature della Juve Poggio Marino. Orfana del centravanti Cirillo, l'Alfaterna è troppo disattenta già sul vantaggio dei Vesuviani che arriva al dodicesimo. Perfetto l'inserimento in diagonale di Inzerra che da sinistra gira al centro un preciso cross sul quale il bomber romano ruba il tempo ad Angona e fa secco caso. Passano solo i sei minuti, arriva il raddoppio, Salemme cross a basso dalla destra, Romano fa velo e Di Meo è liberissimo di insaccare. L'Alfaterna soffre e a metà frazione perde pure Moscariello prima delle tre vittime di infortunio muscolare tra i nocerini. Alla mezz'ora arriva pure il Tris, ancora dal versante destro della difesa di casa. De Rosa gira al centro, Fabrocile palleggia in piena libertà e realizza dal limite con la visibile complicità di caso. È notte fonda per l'undici di Mister Sellitti che rischia in pochi secondi il poker quando Di Meo centra la traversa e sugli sviluppi dell'azione Romano alza di pochissimo sulla traversa in rovesciata. Ma la Juve Poggio Marino ci crede di più e chiude i conti al quarantunesimo, tanto per cambiare, con un'azione sulla sinistra. Di Meo entra dal lato corto in area e il suo cross trova la sfortunata deviazione di Fabricatori alle spalle di caso. Poco prima dell'intervallo è lo stesso Fabricatore a riscattarsi trovando il gol di testa su preciso cross di Molisse. Ad inizio ripresa gli ospiti tengono ritmi blandi ma l'alfaterna non sfrutta i varchi. Al settimo Damato parte in velocità a destra ma Bici Domini non trova lo spunto vincente a tu per tu con Amino. I nocerini alzano il baricentro ma prestano il fianco al contropiede della Juve Poggio Marino, micidiale al quindicesimo quando Salem regala a Romano la gioia della doppietta personale. Un colpo di testa ancora di Romano trova pronto caso in corner al ventitreesimo prima che anche Damato vada a K.O. per problemi muscolari e che il baby Gambardella raccolga un'effimera gioia realizzando il gol del 2-5 definitivo con un gran bel diagonale dal limite. Alla mezz'ora lo stesso Gambardella è la terza vittima di noia ai muscoli e lascia i suoi in dieci con le tre sostituzioni già avvenute. Finisce così con un pesantissimo K.O. che tuttavia non porta modifiche alla classifica viste le concomitanti sconfitte di Napoli, Scamaldoli e Mari dirette concorrenti in zona rossa.